Buongiorno e con la nostalgia dei giorni di Assisi che ci hanno accompagnato in questi anni nel percorso di crescita e maturazione nell'ambito dell'ecologia sociale antropo-spirituale. L'argomento di quest'anno doveva essere, continuerà a esserlo fino all'anno prossimo, il valore politico della sobrietà, che cerchiamo di declinare coltivandola nella continuità del lavoro dei club anche attraverso questi strumenti che naturalmente hanno dei limiti relazionali ma che sono utili e possono mantenerci in contatto e non dobbiamo limitarci solo a questo, dobbiamo incrementare i momenti di relazione tra i club non solo italiani ma di tutto il mondo per far sì che la nostra cultura sia in grado di interpretare anche il tempo che stiamo vivendo all'insegna dell'ecologia sociale antropo-spirituale, che significa appunto coltivare la sobrietà ma anche avere un atteggiamento costruttivamente critico nei confronti di ciò che è accaduto e sta accadendo. Questo ci potrebbe permettere di trasferire le nostre conoscenze che abbiamo sviluppato nell'ambito dell'alcologia anche relativamente alla gestione dell'attuale situazione che naturalmente non è solo sanitaria ma è anche sociale, culturale, antropologica. È una grande occasione per farci conoscere e far sì che i nostri programmi diventino parte integrante della nostra comunità locali. Buona giornata a tutti! Grazie! Grazie! Grazie!